Organizzavano e partecipavano a gare clandestine di cavalli denunciati tre uomini di Santa Maria di Licodia sequestrati tre cavalli. Scomparso a soli 56 anni appaternò Mario Brasile, stilista delle spose e grande protagonista del carnevale e funerali oggi alle 15.30 a Santa Barbara. Stanno pian piano scomparendo, portati via dalla forza delle acque, i resti dell'antico approdo di Pietralunga appaternò un appello a salvare ciò che resta, arriva dal geologo Orazio Caruso. Dotazione di 50 milioni di euro per finanziare le imprese siciliane che hanno subito una perdita economica dovuta alla pandemia dopo l'accordo tra Regione e Banca Europea degli investimenti. 41.500 i nuovi positivi al Covid in Italia continuano a diminuire gli ospedalizzati. In Sicilia oltre 4.000 i nuovi contagiati. Protocollo d'intesa tra Comune, FCE e Liceo Artistico Rapisardi appaternò per un progetto di alternanza scuola-lavoro di street art. Una raccolta solidale di arance si è svolta questa mattina a Catania in un terreno confiscato alla mafia intitolato a Girolamo Rosano, l'abbracciante 19enne Adranita, ucciso nel 1951 nel corso di una manifestazione pacifista ad Adrano. Si avvicina la Pasqua in attesa di sapere se l'andamento della pandemia permetterà di celebrare l'evento Anche con le processioni dal vivo abbiamo sentito Don Nuccio Puglisi della parrocchia di Cristo Re a Paternò. Buonasera, ben trovati per questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlandovi di cronaca. Gare clandestine di Cavalli a Santa Maria di Licodia. I carabinieri hanno denunciato tre persone. Vediamo. Una minuziosa attività investigativa condotta dai carabinieri di Santa Maria di Licodia e del nucleo operativo della compagnia di Paternò unitamente ai colleghi del centro anticrimine natura dello squadrone eliportato cacciatori di Sicile con il supporto dell'ASP ha permesso di svelare un'attività illegale relativa all'organizzazione di competizioni clandestine di Cavalli e ha portato questa mattina alla denuncia di tre uomini licodiesi di 28, 39 e 66 anni per il reato di maltrattamento di animali. I tre sarebbero stati individuati come organizzatori e partecipanti a diverse gare clandestine nel territorio della provincia di Catania. Il 66enne tra l'altro è destinatario anche di condanna per appartenenza al clan mafioso dei Laudani. I militari, grazie anche al monitoraggio dei social network sui quali sono stati pubblicati dei video nei quali venivano esaltate le prestazioni dei cavalli, hanno individuato a Santa Maria di Licodia un fabbricato rurale interamente abusivo e utilizzato dai tre uomini come stalla. Al suo interno sono stati rinvenuti tre cavalli sottoposti a sequestro amministrativo, farmaci per uso veterinario alcuni dei quali di importazione estera nonché sprovvisti di prescrizione medica e autorizzazione all'importazione anche questi sottoposti a sequestro e 30 rotoballe di fieno prive di tracciabilità utilizzate per l'alimentazione degli animali. Sebbene all'apparenza e in buona condizione di salute, i cavalli sono stati visitati da un veterinario dell'ASP e sottoposti ad analisi cliniche infettivologiche e microbiologiche in attesa dell'esito dei test. I tre equidi sono stati affidati in stato di isolamento all'istituto di incremento ippico per la Sicilia. I tre uomini denunciati dovranno pagare sanzioni amministrative di 22.300 euro per la mancanza del codice aziendale che avrebbe dovuto essere registrato presso il servizio veterinario competente e ulteriori 519 euro perché è violato il codice della strada per il divieto di competizioni sportive o di animali su strada. Restiamo a parlare di cronaca nera, guardando questa volta gli incidenti stradali, purtroppo se ne sono registrati due, uno a bel passo, questa mattina un secondo sulla statale 284 nel pomeriggio. Per quanto riguarda questa mattina l'incidente è avvenuto in via nazionale poco dopo le 6.30, ferita una donna di 28 anni. La donna per causa in corso d'accertamento ha perso il controllo della sua auto, prima è andata a schiantarsi contro delle vetture in sosta e poi ha cappottato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, i carabinieri della compagnia di Paternò e un'ammulanza del 118. La donna è stata portata al pronto soccorso del Santissimo Salvatore a Paternò, le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo incidente, per fortuna questo senza aver registrato feriti, è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la statale 284. C'è stato un scontro tra due vetture che percorrevano la statale nei due diversi sensi di marcia, quindi da Paternò verso Adrano e da Adrano verso Paternò. Pare che una Nissan abbia colpito, come detto, una Fiat Panda. Nessun ferito sul posto. I carabinieri per effettuare la dinamica, per accertare la dinamica di quanto è accaduto, ma anche per disciplinare il traffico. Le ripercussioni si sono avute con rallentamenti fino a tarda serata. Adesso parliamo della morte di Mario Brasile, cordoglio a Paternò per la scomparsa di colui che è stato lo stilista delle spose e protagonista del carnevale paternese del passato. In molti ricordano sui social il suo estro, la sua creatività, ma anche la sua genialità. Vediamo. Paternò piange Mario Brasile. L'eclettico stilista se n'è andato ieri pomeriggio a soli 56 anni, a causa di un male incurabile. Dalla prima notizia circolata sui social nella serata di ieri si è subito scatenata un'ondata emozionale. Politici, società civile, appassionati del carnevale e soprattutto tanti cittadini hanno commentato la notizia della dipartita lasciando un pensiero su Mario Brasile che molti ricordano come artista. Imprenditore nel settore della moda era in particolare lo stilista delle spose. Tante ragazze di Paternò, ma non solo, per il giorno più bello si sono affidate al suo estro e lui ha sempre ricambiato la fiducia con abiti che hanno contribuito a rendere indimenticabile il loro matrimonio. Ma ancora di più è ricordato per essere stato fra i protagonisti del carnevale di Paternò e in particolare delle sue ultime edizioni degne di nota, quelle degli anni 80 e 90. Il suo talento era al servizio dei gruppi in maschera e in tanti ricordano l'edizione del 1990 che vinse con il gruppo Madame di Pompadour. Per l'occasione allestì costumi di altissimo livello che poi sfilarono anche in altri carnevali su tutta la penisola. E poi in Mario Brasile c'era una grande fede che suggellava nelle vetrine del suo atelier di Via Nazario Sauro con allestimenti dedicati alla Madonna. L'addolorata in occasione della Pasqua, ma anche Santa Barbara e la Vergine con il bambino visibile ancora oggi in vetrina. Non passa inosservato un dettaglio. La scomparsa è avvenuta il mercoledì delle Ceneri, il giorno dopo la chiusura del carnevale e un altro dei protagonisti del carnevale di Paternò, Santo Parisi, se ne andò nel 2014, proprio nelle giornate clou del carnevale. Chuck Telesud e il direttore di Chuck News, Mary Sottile, a nome di tutta la redazione esprimono il proprio cordoglio per la prematura di partita di Mario Brasile. Il mio personale dolore per l'affetto e l'amicizia ultradecennale che mi legava a lui, sottolinea Mary Sottile. E sentiamo una persona che è sempre stata molto vicina a Mario Brasile, già quando si realizzavano i gruppi in maschera per il carnevale, parliamo di Barbara Sava, che abbiamo sentito in questa intervista. Un ricordo molto bello, una persona molto speciale, una persona veramente unica nel suo genere e nel suo stile, un grande imprenditore, una persona che ha dato a Paternò tanto, non solo per il carnevale, per carità, ma lo ricordiamo come stilista, ha vestito tante e tante donne, sia nell'alta moda degli abiti da sposa, sia anche nell'alta moda. Una persona che lo ricordano tutti, una persona splendida, umile, bella, una persona che viveva non di luce riflessa, ma di luce naturale, amava molto il sole, amava molto il mare, amava molto viaggiare. Una persona che piangeremo tutta quanta a Paternò per le sue creazioni, per la sua bella figura, per il suo saper fare. Ha vestito tante, ma tante, tante donne, non solo a Paternò. Mi arrivano tante chiamate da Randazzo, da Bronte, dove lui aveva un grande tagliere, che ricordano tutti. Anche da Catania, dove lui ce l'aveva al Viale 20 settembre. Una persona che ha dato tanto, si è speso tanto e che ci mancherà tanto. Io, da amica intima, non posso dire un addio, ma posso dire semplicemente un arrivederci. Certo, è una persona che mancherà a Paternò, come Santo Parisi, come Gaetano, come tante altre persone grandi che si sono spesi, anche nel carnevale di Paternò. Beh, l'unica rimasta sarei io con tanti altri amici. Chissà. Ciao Mario. Ti amo. Ciao. Marco Bisogni hanno assolto, per non aver commesso il fatto, invece Nino Rivilli, che era accusato di essere uno dei due sicari dell'agguato. Secondo la procura, Paolo Arena fu ucciso dalla clan Nicotra, detto dei tuppi, perché ritenuto un traditore, visto che dopo aver intrattenuto relazioni illecite e continuative con loro, aveva allacciato rapporti d'affari con la cosca rivale dei Pulvirenti. L'esponente politico fu assassinato davanti al comune di Misterbianco con almeno cinque colpi sparati da due fucili caricati a pallettoni, uno dei quali è esploso alla testa da distanza ravvicinata. Cambiamo argomento, stanno pian piano scomparendo, portati via dalla forza delle acque i resti dell'antico approdo di Pietralunga a Paternò. Un appello a salvare ciò che resta arriva dal geologo Orazio Caruso. Vediamo. L'antico approdo di Pietralunga a Paternò sta pian piano scomparendo, portato via dalle acque nel silenzio più assoluto delle istituzioni, comprese quelle deputate alla sua salvaguardia. Sovrintendenze e beni culturali di Catania e Comune non hanno mosso un dito ad oggi per impedire che questo pezzo di storia della città scomparisse per sempre. Silenzio da parte di tutti, da ultimo anche da parte delle associazioni che in città si occupano di cultura e salvaguardia dei beni. Questo pezzo di storia tra breve sarà solo un ricordo di fatto, l'ennesima sconfitta per una città che tenta di trovare un appiglio nel tracciare nuove strade da percorrere per scrivere un futuro economico mai concretamente provato prima e che nel turismo può trovare una sua concreta forza. Poche le voci che continuano ad opporsi a tutto questo. Tra queste c'è quella del geologo Orazio Caruso, a cui si deve la scoperta dell'approdo arrivato quasi quattro mesi fa. È rimasto appena un quarto dell'imbarcadero che era stato individuato a metà novembre. Sapete che sono avute le istituzioni, la soprintendenza, anche il genere civile, eccetera. Il Comune non si è fatto assolutamente sentire, pur essendo una cosa nostra, quello che c'è sulla Provinciale 220, è un retaggio che meritava di essere quantomeno salvaguardato. Guardate, i privati con 7.000 euro circa hanno fatto una strada lunga circa 40 metri e spessa 5 metri. Per salvaguardare questo occorreva mezza giornata di un escavatore che mettesse delle pietre a protezione di questa struttura in modo che le acque del fiume non la erodessero alla base. Perché le manovre delle acque che avvengono nella dica di Regalbuto e quello non si possono impedire perché loro man mano devono svuotare, devono comunque fare quelle operazioni che serviranno appresso per l'agricoltura. L'abbondanza di queste acque, aiutata anche da qualche cretino che a monte del fiume, a monte di quel tratto, ha rettificato il corso facendo aumentare, non dando la pendenza, la velocità delle acque, e quindi anche l'urto delle portate di queste acque sull'argine destro dove insisteva l'imbarcato ha fatto sì che adesso si è portato tutto o quasi tutto per cui forse resisterà ancora qualche altro mese ma è in dubbio che con le prime piogge dei prossimi mesi saranno fino a settembre, ottobre oppure se ci sarà qualche grossa acquazzone da qui ai prossimi 15 giorni, 20 giorni è in dubbio che quelle pietre messe lì che sono già discostate o scostate dalla furia delle acque evidentemente saranno portate via. Un'altra cosa aggiungo, circa 20 giorni fa abbiamo rinvenuto la sponda sinistra idravotica del ponte romano purtroppo è mascherato dalle canne mi auguro che con voi appena il privato perché in una proprietà privata possa pulirlo, possiamo andare a rilevare ecco, prima tutti sapevamo del ponte romano sul lato destro del fiume adesso c'è anche quello sinistro è di fattezza romana perché le pietre sono cementate e secondo la tecnica dei romani era sicuramente un ponte con tre, forse anche più arcate di cui non resta nulla perché questi arcate, questi pelastroni in mezzo al fiume sono andati via grazie alla furia delle acque è un fatto naturale. E cambiamo ancora argomento diventa operativo il Fondo Emergenza Imprese Sicilia da martedì prossimo 8 marzo le piccole e medie imprese siciliane danneggiate dalla crisi innescata dalla pandemia potranno presentare la richiesta di finanziamento la dotazione finanziaria ammonta a 50 milioni di euro il Fondo Emergenza Imprese Sicilia frutto dell'accordo tra Regione e Banca Europea degli Investimenti gestito da Icreabanca insieme ai 11 istituti di credito cooperativo siciliani appartenenti al gruppo diventa operativo da martedì 8 marzo le piccole e medie imprese siciliane danneggiate dalla crisi innescata dalla pandemia potranno presentare la richiesta di finanziamento i dettagli dell'accordo e del relativo bando sono stati presentati ieri mattina a Palazzo Orleans a Palermo dal Presidente della Regione Nello Musumeci dall'assessore all'economia Gaetano Armao e dal responsabile di visione imprese di Creabanca Carlo Napoleoni si tratta del finanziamento della Banca Europea degli Investimenti che consente di mettere a disposizione delle imprese siciliane finanziamenti a tasso zero fino a 20 anni con un preamortamento di due anni con importi fino a 5 milioni di euro a 2 milioni e 3 senza interessi quindi con opportunità per affrontare la crisi e soprattutto per prepararsi alla ripresa certo la ripresa dell'inflazione la guerra in corso in Ucraina rendono tutto complicato ma non c'è in momenti di crisi altra opportunità per le imprese se non investire nel proprio futuro e questo dobbiamo aiutare a fare la nostra impresa attraverso questo strumento finanziario assolutamente innovativo la dotazione finanziaria ammonta 50 milioni di euro 25 dei quali provenienti da risorse POFESD Sicilia 2014-2020 e 25 da fondi regionali all'esaurimento di questo plafond come previsto dall'accordo si aggiungeranno almeno altri 50 milioni di euro come cofinanziamento a carico di CREA l'intermediario finanziario individuato e selezionato dalla BEI gli aiuti consistono in prestiti agevolati di medio, lungo e breve termine per finanziare capitale circolante e investimenti la durata massima dei prestiti è di 20 anni per gli investimenti 15 anni per prestiti di liquidità possono richiedere i finanziamenti le piccole e medie imprese siciliane o operative in Sicilia costituite entro il 31 dicembre 2019 che nel 2020 abbiano subito perdite di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 possono fare richiesta le aziende che operano in tutti i settori ammissibili nell'ambito del POFESD Sicilia 2014-2020 Mister Bianco scende in campo domenica 6 marzo alle 10 per manifestare il suo sostegno alle azioni di pace per l'Ucraina finché si arrivi all'accessate il fuoco avviando un confronto diplomatico che risolva il conflitto l'amministrazione comunale in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e le associazioni culturali di volontariato sportivo e sociali si raduneranno al parco suburbano di Campanarazzo e adesso parliamo di covid 41.500 i nuovi positivi al covid in Italia continuano ancora a scendere gli ospedalizzati in Sicilia ci sono oltre 4.000 nuovi positivi i nuovi contagi in Italia 41.500 su oltre 431.000 tamponi processati l'incidenza è al 9.7% le buone notizie arrivano ancora una volta dagli ospedalizzati che continuano a diminuire in reanimazione ci sono 27 malati intubati in meno per un totale di 654 mentre in area medica si sono liberati 355 posti letto e ricoverati poco più di 9.500 185 i decessi oltre 62.000 guariti gli attuali positivi sono adesso poco più di un milione in Sicilia oltre 4.000 nuovi contagi tamponi esitati quasi 34.000 boom di guariti nell'isola oltre 15.000 gli attuali positivi diminuiscono di quasi 10.000 unità e adesso sono in tutto poco più di 222.000 18 i decessi rianimazione due posti letto in più per un totale di 67 malati gravi in area medica invece 35 posti letto in meno per un totale di 967 ricoverati con e per covid 894 per ultimo i nuovi positivi nella provincia di Catania e adesso vi parliamo di un'iniziativa che è stata presentata oggi al comune di Paternola sede di piazza della regione un progetto di alternanza scuola-lavoro un protocollo d'intesa sottoscritto tra il comune di Paternola la ferrovia Circo Metnea e il liceo artistico Rapisardi di Paternò vediamo l'alternanza scuola-lavoro al centro dell'incontro svoltosi questa mattina a Paternò che ha visto protagonisti il sindaco Nino Naso Salvatore Fiore dirigente di FCE e Fiorella Baldo preside dell'istituto di istruzione superiore Mario Rapisardi siglato a Palazzo della Regione l'accordo sul progetto Strade Colorate che vedrà protagonisti gli studenti dell'indirizzo artistico del liceo paternese saranno loro attraverso l'ideazione di elaborati che verranno poi valutati dalla commissione composta da comune, FCE e liceo artistico a riqualificare gli spazi della stazione di Paternò in particolare le pensiline e la sala d'aspetto i ragazzi saranno loro i promotori di questo progetto nel senso che partiranno proprio loro dal fare i bozzetti e poi realizzeranno, chiaramente guidati anche dai docenti questa riqualificazione di queste pareti della ferrovia per noi, per loro è un'esperienza importante perché appunto si tratta di una didattica che viene finalmente fatta all'aperto ed è anche una didattica laboratoriale è importante per loro perché permetterà di acquisire quei crediti che servono proprio per lo svolgimento del cosiddetto PCTO cioè dell'ex alternanza scuola lavoro quindi quello che hanno imparato in teoria potranno finalmente metterlo in pratica coniugandolo chiaramente con tutta quella che è la loro estrosità, vivacità, curiosità e non ultimo, altro fine importante è anche quello di riqualificare questi ambienti e farli in un certo senso propri quindi rientrare anche in quelle che sono le tematiche fondamentali dell'educazione alla cittadinanza attiva rappresenta un momento importante il coinvolgimento, la sinergia fra questi ente la ferrovia circomettennea, la scuola e il comune ma la cosa più importante è che è affidata alla scuola, ai ragazzi e alla scuola al nostro futuro la riqualificazione di questi luoghi, questi luoghi di proprietà della ferrovia circomettennea loro li pittureranno, loro lavoreranno su dei murales, quindi il futuro della città per darlo ai nostri ragazzi che si appropriano della loro casa grande come dico sempre perché la città è la casa grande di tutti i cittadini e questo messaggio che arriva dall'istituzione ai ragazzi diventa per noi fondamentale l'alternanza scuola-lavoro sono tante le iniziative che stiamo portando avanti questo è un momento importante saranno alla stazione, coloreranno le loro le pensiline che sono state magari maltrattate da altri ragazzi quindi un momento di grande cuore ma di grande civiltà L'iniziativa è veramente bella anche perché poi si coinvolgono i ragazzi, i giovani che sono il futuro della nostra società e fare cultura nei confronti dei giovani cultura finalizzata a migliorare la nostra infrastruttura a migliorare il nostro territorio a renderli direttamente loro parte attiva perché questa cosa è carina di riqualificare questo spazio all'interno della nostra ferrovia ma anche riqualificare quello spazio all'interno del territorio comune di Paternò Una raccolta solidale di arance si è svolta questa mattina a Catania in un terreno confiscato alla mafia è intitolato a Girolamo Rosano il bracciante agricolo di 19 anni ad Ranita ucciso nel 1951 nel corso di una manifestazione pacifista ad Adrano è un'arancia rossa straordinaria molto buona l'arancia raccolta per una iniziativa benefica in un terreno confiscato alla mafia è certamente più buona infatti una raccolta solidale di arance da donare a enti che assistono persone in difficoltà si è tenuta questa mattina in un aglumeto confiscato alla criminalità organizzata il condado a Jungetto terreno assegnato al comune di Catania è intitolato alla Danita Girolamo Rosano il bracciante 19enne ucciso nel 1951 nel corso di una manifestazione pacifista ad Adrano la distribuzione agli enti destinatari degli aglumi raccolti contrassegnati da un adesivo che ne traccia la provenienza è avvenuta attraverso gli operatori della protezione civile comunale all'iniziativa hanno partecipato volontari e rappresentanti di Rega Ambiente Catania l'Angelo Federico Onlus ASAEC Movimento Cristiano Lavoratori i Siciliani Giovani Arci Catania il Giardino di Scida Forum Associazioni Familiari Coordinamento Associazioni Forze Intervento Rapido Meta Cometa PS Libera Addio Pizzo e Comunità di Sant'Egidio L'azienda International Paper Italia e i consorsi Euragrumi e Galline Felici hanno offerto la fornitura a titolo gratuito dei mezzi necessari alla raccolta ma sentiamo Michele Cristaldi Assessore ai beni confiscati alla mafia del Comune di Catania Oggi abbiamo coinvolto tutte le associazioni del terzo settore per raccogliere queste arance coltivate in un terreno confiscato alla mafia e donarle a chi ha più bisogno attraverso la distribuzione effettuata dalla protezione civile comunale nelle varie parrocchie Caritas e tutti gli enti caritatevoli che aiutano il prossimo oltre 12 associazioni con tantissimi volontari credo che ne sono venuti anche di più rispetto a quelli che avevamo calcolato questo è un buon segnale perché questa raccolta solidale ha un valore simbolico molto importante dove l'amministrazione insieme alle associazioni del privato sociale vuole testimoniare che lo Stato e le istituzioni ci sono per sfatare l'infallibilità della mafia e quindi l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei beni confiscati alla mafia diventa determinante per trasmettere un segnale positivo alla cittadinanza Cambiamo ancora argomento chiudiamo con un ultimo servizio si avvicina la Pasqua e non si sa ancora con certezza l'evoluzione della pandemia da Covid-19 quindi si attende di capire se si sarà permesso o meno lo svolgimento delle processioni religiose regalando ai fedeli una parvenza di normalità dopo anni difficili e noi questo pomeriggio siamo andati a parlare con Don Nuccio Puglisi della parrocchia di Cristo Re vediamo Siamo qui alle mie spalle la chiesa del Cristo Re a Paternò siamo andati a trovare Don Nuccio Puglisi per parlare della preparazione alle festività pasquali di quest'anno ancora all'insegna del Covid ma con uno spiraio di speranza legato alla possibilità che possa terminare con il mese di marzo l'emergenza e quindi si possa tornare alle processioni dal vivo abbiamo parlato di questo ma anche di altro della guerra tra Russia e Ucraina ascoltiamolo vediamo insomma quali sono le sue parole proprio in prossimità della Pasqua 2022 L'inizio di questa guerresima ci apre proprio a queste prospettive a questa speranza la comunità cittadina ecclesiale di Paternò attende innanzitutto di vivere una quaresima più serena quindi se il 31 di marzo sarà ritirato lo stato di emergenza sicuramente ci si riattiverà perché ci siano anche quei momenti si ricreino quei momenti belli ecclesiali che qui a Paternò contraddistinguono la vita pasquale della comunità mi riferisco soprattutto alla bella processione che si fa nel venerdì della quinta settimana di Quaresima il cosiddetto venerdì dell'Immacolata dove tutta la comunità porta fin sopra la collina la croce segno di unità e poi chiaramente la processione del venerdì santo e anche noi tutti ci spostiamo ci muoviamo con speranza verso la più importante delle processioni dove si porta per le nostre strade Gesù stesso e quindi attenderemo che arrivi finalmente un periodo estivo giugno dove si potrà rifare una processione del corpus domini così come ne sentiamo il bisogno e la necessità nel frattempo però la Quaresima porta sempre con sé dei segni che ci mettono nelle condizioni di celebrarla più che degnamente la storia non ci lascia soli nel senso che il Signore ci dà sempre l'opportunità di poter incarnare quello che è la Quaresima e la Pasqua significano abbiamo questo periodo di crisi che già di per sé ci educa all'essenzialità abbiamo il tormentato episodio evento della guerra che sta sconvolgendo questi giorni e che certamente non lascerà indifferenti i cuori cristiani più sensibili i quali riusciranno a vivere certamente una Quaresima più vicina attraverso la comunione con la sofferenza di questi nostri fratelli al mistero che celebreremo e senza dubbio anche quest'anno l'avvicendamento l'arrivo del nostro nuovo Vescovo questo ci mostra un segno della presenza reale di Cristo nella storia l'annunzio della Pasqua è un annunzio dinamico che si muove nel tempo e questo evento che quest'anno abbiamo celebrato ci dà la possibilità proprio di farne un'esperienza viva ed efficace come si fa con i sacramenti ecco in questo periodo a livello generale ma siamo certi anche a Paternò la chiesa è diventata ed è tornata ad essere per molti un punto di riferimento parlava nei termini della speranza della fede della voglia diciamo di riappropriarsi di quelli che sono i valori veri della vita quindi le chiedo a prescindere da quelle che saranno le processioni che poi eventualmente se ci saranno le possibilità voi vi occuperete di organizzare qui a Paternò un messaggio per chi ascolterà per i paternesi e per tutti diciamo proprio in relazione a come vivere la festività pasquale quest'anno la Quaresima la Pasqua non vanno vissuti come tempi assestanti nell'economia della grande pedagogia che la liturgia ci mette nella condizione di poter sperimentare la Pasqua e la Quaresima prima della Pasqua ci educano a quell'attenzione nei confronti dei fratelli attraverso la carità il digiuno la preghiera che certamente in questo periodo siamo chiamati a vivere più intensamente ma che siamo chiamati a vivere tutto l'anno non esiste per un cristiano un giorno che sia in cui debbano mancare questi tre pilastri che hanno come base la nostra fede e la nostra speranza e che si manifestano nella nostra carità nell'amore di ogni giorno quindi questo sicuramente è un indirizzo ed un proposito che ci accomuna tutti e che è sempre verde perché vale in qualunque stagione della storia era questo il nostro ultimo servizio io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona serata grazie a tutti